Bella a tutti raga un saluto da Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su questo nuovo vlog vlog come sempre dalla macchina ragazzi io ci ho provato a farli normali a casa con calma tranquillo ma quando poi li caricavo su youtube mi arrivava proprio la mail di youtube che mi diceva ma che sta a fare torno in macchina ma che meglio no vabbè ragazzi a parte gli scherzi scusate come sempre la location della macchina ma come sapete il mio tempo a disposizione è sempre molto molto limitato e quindi ne devo approfittare di questi tempi diciamo così dedicati allo spostamento per raggiungere il posto di lavoro che è tra l'altro parecchio lontano da casa mia e più di un'ora di macchina ad andare e così anche a tornare quindi insomma ne approfitto di questi momenti per appunto fare i miei vlog e questo vlog sinceramente ragazzi lo volevo fare nel più breve tempo possibile perché mi sentivo proprio di farvi un grandissimo grandissimo ringraziamento perché come del resto tanti hanno già visto mi hanno già fatto anche i complimenti assolutamente immeritati però vi ringrazio comunque del pensiero per il raggiungimento dei 6.000 iscritti non voglio come al solito fare frasi fatte a oddio non me l'aspettavo e tutto però veramente ragazzi vi giuro che assolutamente non mi aspettavo questo tipo di risultato lo so che su youtube 6.000 iscritti non sono niente però vi assicuro che per me davvero sono un enorme risultato proprio perché sinceramente mai più mi aspettavo di raggiungerlo quando decisi di aprire appunto il canale la cosa che poi oltretutto mi fa ancora più piacere dei 6.000 iscritti è comunque quello che il rapporto che si è creato nei commenti sotto ogni video l'affetto comunque che mi dimostrate con i vostri commenti aiutandomi in tutti i vari titoli che che vi porto sul canale di questo veramente credetemi fa un immenso un immenso piacere tra l'altro con tanti di voi ho anche diciamo comunque stretto amicizia anche se solo virtuale perché comunque il canale mi ha permesso di conoscere anche proprio attraverso i commenti tantissime persone con cui ci sentiamo anche insomma via facebook via steam eccetera per cui insomma questo mi fa veramente veramente un grande piacere tra l'altro ne approfitto anche di questo vlog ma non l'ho detto magari qualcuno se ne è anche accorto perché l'avrà visto nei vari link sotto ogni video o tra l'altro anche aperto un account di instagram per cui lo trovate anche in un page al canale sulle iconcine sopra il tasto iscriviti ci sono tutte le varie iconcine dei social in cui appunto mi trovate e c'è anche instagram per cui vi invito a iscrivervi anche lì l'account di instagram lo utilizzo più che per il discorso del canale proprio per mettere anche magari foto mie insomma o comunque anche ad esempio quando sono andato a lucca trovate un po' di foto del mio giro a lucca comics quindi sicuramente verrà utilizzato in particolare per questo tipo di cose quindi eventi e queste cose qua per cui vi invito ovviamente a mettere l'iscrizione anche lì e che dire ragazzi io tra l'altro già volevo fare un vlog perché sto tentando visto che me l'avete chiesto in tantissimi sto tentando di ritornare in live questa è una cosa che mi avete chiesto veramente in tanti come sapete io le live già le facevo fino a un po di tempo fa le facevo il sabato dalle 12 e 30 circa fino verso le 14 e 30 purtroppo la mia connessione è rimasta a quella che era nel senso che la fibra da me ancora non si sa se e quando mai arriverà però dato che sul canale sto portando anche tanti gestionali dato che il genere mi interessa molto ho pensato e sto provando a fare un po di test con appunto i vari gestionali che sto portando sul canale perché sicuramente un gioco gestionale richiede molte meno risorse anche da un punto di vista della diretta perché ha un bit rate molto inferiore e quindi in teoria sui gestionali dovrei riuscire a fare diciamo una diretta decente quindi almeno darvi una qualità in hd e insomma e quindi poter tornare in diretta almeno con i gestionali poi ripeto nel momento in cui arriverà la fibra sicuramente lo farò anche con tutti gli altri titoli di sicuro adesso come adesso non posso proporvi un rainbow six o un seven day to die in diretta proprio perché sinceramente ragazzi ci ho già provato e le potete vedere anche perché c'è la playlist dedicata alle live che ho fatto fino ad ora e lo potete vedere che insomma in giochi ovviamente più pesanti come la visuale si muove l'immagine inizia a diventare tutta pixelosa inizia laggare quindi non non ha senso sinceramente proporre una live così scadente però ripeto sui gestionali sto provando varie cose e in linea di massima dovrei riuscire quindi a breve spero di poter fare un nuovo vlog in cui appunto vi dirò giorno e orario della live tra l'altro sto anche cercando di organizzarmi per fare la live serale penso che inizialmente sarà una volta alla settimana molto probabilmente il lunedì sera alle 21 se riesco appunto poi comunque vi darò conferma appunto con un nuovo vlog e così insomma vi confermerò eventualmente giorno e orario della live quindi ovviamente le live saranno sia su youtube che su twitch per cui se non siete iscritti iscrivetevi anche al canale di twitch perché ho anche quello lo trovate sempre in descrizione a tutti i video in descrizione quindi anche ovviamente a questo video in descrizione del canale insomma li trovate tutti i social e quindi iscrivetevi anche su twitch che dire io come detto non posso far altro che continuare a ringraziarmi a ringraziarvi mi ringrazio da solo si a ringraziarvi davvero tantissimo l'età ormai avanza la dislessia pure e se volete continuare a darmi una mano a crescere insomma su youtube lo potete fare come sempre mettendo like ai video commentando assolutamente per darmi una mano anche nei giochi e magari anche invitando i vostri amici a mettere l'iscrizione sul canale se pensate ovviamente che gli possa che gli possa far piacere quindi che dire ragazzi io a questo punto direi che vi saluto ancora davvero mille volte grazie e noi naturalmente ci ribecchiamo nei prossimi vlog nei prossimi gameplay ciao belli